Il Consiglio Comunale di Savona ha adottato il Piano Decennale di Riequilibrio Finanziario. Il Piano prevede il ripianamento del disavanzo stimato nel 2016 in 13 milioni di euro nel decennio 2016-2025 e mette le basi per poter affrontare diversi aspetti. Una migliore efficienza nella gestione delle entrate comunali con un'attenta e scrupolosa gestione dell'evasione e della riscossione, una razionalizzazione delle spese, la riorganizzazione della pianta organica, una revisione del patrimonio disponibile. Lo ha evidenziato l'assessore savonese al bilancio Silvano Montaldo, che ha anche sottolineato che se il piano di risanamento verrà approvato dagli organi competenti, il bilancio del Comune di Savona riuscirà a superare un difficile momento finanziario ed iniziare a guardare ad un futuro senza particolari insidie. Montaldo ha anche comunque nascosto che il piano richiede sacrifici e necessità di una forte e pesante ristrutturazione organizzativa e che quindi il Comune non potrà più garantire tutti i servizi che in passato venivano erogati.